Un ventunenne di Sovere ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera intorno alla mezzanotte in Viale Gusmini a Clusone, nei pressi del bar Seltz. Si sono scontrate una Fiat Punto con a bordo quattro giovani dell'Alto Sebino, diretta verso Bergamo, e una Renault Megane proveniente dalla direzione opposta, su cui viaggiavano una 44enne di Clusone e il marito. La Punto, dopo aver colpito la Megane, è finita contro un muretto. L'impatto è stato fatale al ventunenne di Sovere, Luca Rossi, che era alla guida della Punto e che ha cessato di vivere poco dopo l'impatto. Su un'auto con lui c'erano un ventunenne di Costa Volpino e due ventitreenni, uno di Soltocollina e l'altro nativo di Lovere. Tre i feriti che sono stati soccorsi dalle ambulanze del Corpo Volontari Presolane della Croce Blu di Gromo e portati, uno in codice giallo, gli altri due in codice verde, negli ospedali di Bergamo e Piario. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affinata ai carabinieri di Clusone, intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ipotesi, la Punto avrebbe invaso l'opposta da Corsia, pare si trovassi addirittura oltre lo spartitraffico centrale di Viale Gusmini. Il conducente non sarebbe riuscito a rientrare per tempo sulla propria Corsia, scontrandosi con la Megane condotta dalla 44enne, che aveva appena finito il proprio turno di lavoro presso un bar nella zona del Botteghino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Clusone. Luca Rossi era figlio del titolare del distributore di benzina IP di Sovere.